La lingua madre, iniziativa dell'assessorato regionale alla cultura, nata nel 2005 come sezione della Fiera del Libro, da quest'anno diventa autonoma. La lingua madre, che ha sempre avuto il ruolo di ospitare scrittori, saggisti e poeti provenienti da ogni parte del mondo, non necessariamente tradotti, che sono distinti per aver lavorato sul patrimonio della loro tradizione culturale, in senso sperimentale e innovativo, quest'anno propone, nello spazio dell'Arena Piemonte, numerosi incontri con scrittori, concerti serali, reading, sessioni di improvvisazione e di canto popolare. Il primo incontro è un omaggio a Beirut, capitale mondiale del Libro dell'UNESCO 2009. Oda Barakat dialoga con Sharif Madeilani. Oda Barakat, scrittrice e giornalista nata nel 1952, ha vissuto a Beirut fino all'89, per poi trasferirsi a Parigi, dove tuttora risiede e lavora. Nel suo ultimo romanzo, lettere da una straniera, racconta la sua terra, con gli occhi di un'esole, fra struggenti ricordi e amari rimpianti, divisa tra il legame con la sua cultura d'origine e la rabbia verso una patria perduta tra le macerie della guerra. L'autrice dialoga con Sharif Madeilani. Nato nel 1960, ha vissuto a lungo in Francia per motivi di studio, ma nel 1993 ha scelto di tornare a Beirut, dove oggi è docente di letteratura francese all'Università Saint-Jean-Joseph. Grazie.